Gardi, apriamo solo un po', e te Gareggi? Dove stiamo andando? Stiamo partendo per le piste e oggi è un pomeriggio, incontro con le scuole, buona giornata! Buongiorno a tutti, ciao Robby, benvenuti, noi siamo alle gare di triathlon stamattina, c'è un caldo incredibile, c'è queste piste, tutto bianco, siamo qua con le nostre accompagnatrici, vi chiamate? Arianna, Elisa, vi piace questa esperienza? Molto, prima volta che la fate, vero? Ci sono tantissimi ragazzi che ci stanno dando una mano, il che è proprio bello, bello, vero? Bene, allora noi andiamo sulle gare, ciao ciao! Musica Musica E' un momento che fanno la foto di gruppo, in modo tale che se la squadra è senza un componente Musica 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 rifarla perché è qualcosa che ti accresce e è stata bella. Lo speriamo anche noi allora. Ci vediamo in questi giorni di gare. Ciao! 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 E qual è il miglior riposo per i campioni se non un po' di relax in questa piccola spa che c'è all'interno del nostro albergo, compresa di faschere un assaggio, sauna, bagno turco, dolce. Insomma, io, Eugenio e Gabriele ce la siamo presa comoda e dopo l'incontro con le scuole ce ne siamo venuti un po' qua a rilassarci. Direi che è stata un'ottima scelta. Vero è oggi? Ti d'accordo? Ti ti divertito oggi? Stasera avremo la festa al Plata Paqueda che si chiama Gran Galai, qui ci saranno vari balli e staremo lì fino a una tarda serata. Ciao! 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 Ciao!